Frutticoltori della provincia di Verona, buongiorno e ben ritrovati al notiziario del 21 luglio 2023. Un saluto come sempre dalla Coldiretti di Verona, dall'Aipopi e dall'Associazione Ortofrutta Veneta. Vediamo ora il pesco, fase fenologica, accrescimento del frutto, maturazione. Moniglia, intervenire in preraccolta con programmi anti-moniglia. Cidia molesta, si è concluso il secondo volo. Le ovide posizioni sono ormai all'80% del totale, così come le nascite larvali. Ora sono possibili sovrapposizioni con l'inizio del terzo volo, dove si reputa elevato il rischio intervenire con i setticidi ad azione larvicida, tipo etofenprox, efficace anche nei confronti di cimice asiatica, oppure spinethoram, verificare i tempi di carenza per le varietà in maturazione. Forficule, permangono elevate presenze di danni, eventualmente intervenire nelle ore notturne, con piretroidi o spinosad, utilizzati contro altri insetti in quanto non vi sono sostanze attive autorizzate. Actinidia, accrescimento dei frutti. Per la prevenzione da scolature su frutti e vegetazione, utilizzare il caolino. Euglia, mantenere monitorata la presenza con l'uso delle specifiche trappole. Moria, le elevate temperature stanno aggravando le infezioni in diversi actinidieti. E' importante, soprattutto negli impianti ancora sani, verificare costantemente gli appezzamenti e soprattutto gli apparati radicali, così da tenere sotto controllo lo stato idrico del terreno e la presenza, eventualmente, di radici colpite. Melo, fase fenologica, accrescimento dei frutti. Attività agronomiche. Per prevenire scottature su frutti, utilizzare caolino particolarmente sulle varietà sensibili come la Granny Smith. Ticchiolatura, elevata umidità allo stato vegetativo impongono mantenere la protezione della vegetazione con prodotti rameici, dodina, captano, bicarbonato di potassio o zolfo a basse dosi. Oli essenziali di arancio. Oidio. Abbiamo la vegetazione meno sensibile, perciò sta diminuendo il rischio di infezione. Ciò nonostante va mantenuta la difuosa colo zolfo, che ha azione repellente nei confronti della cimice, eventualmente con bicarbonato di potassio, oli essenziali di arancio, polisulfuro di calcio, casomai utilizzati per la ticchiolatura. Carpocapsa. Pieno volo della seconda generazione, con movide posizioni e nascita di larve. Eseguire un trattamento di seticida tipo spinosad, spinetoram o clorantraniliprole. Affide lanigero. Presenze anche importanti, in caso di necessità utilizzare sali potassici di acidi grassi, con alta bagnatura della vegetazione. Cemiostoma. Va attuato in costante monitoraggio, in caso di necessità utilizzare prodotti a base di acetamiprid. Passiamo ora al pero. Fase fenologica, accrescimento dei frutti. Inizio raccolta delle varietà Carmen e Santa Maria. Ticchiolatura, maccolatura bruna. Mantenere le coperture con zira, captano o dodina. Psilla. In forte aumento, oltre ad abamectina o bicarbonato di potassio o sali potassici di acidi grassi, funziona anche l'olio essenziale di arancio. Eseguire lavaggi matutini con saponi molli e bicarbonato ogni 4-5 giorni per limitare la formazione della melata. Carpocapsa. Pieno volo della seconda generazione, con ovide posizioni e nascita di larve. Eseguire un trattamento insetticida tipo spinosat, spinetloram o clorantraniliprole. Brusone. Presenza di questa fisiopatia dovuta a temperature sopra i 30 gradi centigradi, che determinano stati di disidratazione. Le soluzioni sono difficili da adottare, in quanto se si abbassano le temperature con ad acquature, si aumentano i rischi di infezione fungine. Perciò le scelte da adottare devono essere valutate frutteto per frutteto. Ciliegio. La pianta di ciliegio con le elevate temperature soffre molto. Si consiglia di attuare un intervento con caolino per evitare difetti della frutta dell'anno prossimo. Per quanto riguarda l'olivo vi rimandiamo ai soliti canali digitali www.aipoverona.it e al canale YouTube. Un saluto e un ringraziamento va come sempre al Consorzio di Bonifica Veronese, alla Camera di Commercio di Verona, al Consorzio Agrario del Nord-Est, al Codive, Ecofarm, Agrea, BIM, al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della provincia di Verona, all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Agronomi Forestari della provincia di Verona. Ed ora un saluto e un arrivederci al prossimo notiziario frutticolo. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!